buongiorno siete sul canale pratiche sartoriali alla moda vi ricordiamo che i nostri video escono due volte a settimana non molto tempo fa abbiamo lavorato con un malone usa usando metodi semplici e questo è piaciuto a molti di voi e anche noi stessi a me è piaciuto moltissimo e vorrei avere qualcosa alla moda da creare utilizzando metodi semplici perché con i metodi semplici riuscirai sempre creare qualsiasi capo di abilamento e ora guarderemo questo disegno questa è una giacca fatta in organza e lo farò per me e ora vi racconterò il perché ho scelto questo tipo di giacca è un giacconio che è composta da quattro parti due parti compongono la schiena le altre due la parte davanti con il coletto intero e io durante la lavorazione vi mostrerò con questo colo non sarà dritto come un colo tradizionale ma sarà leggermente aperto per uscire un po fuori dagli schemi la giacca risulterà piuttosto voluminosa perché noi andremo a imbottirla in questa lezione impareremo a utilizzare il cartamodello nelle prossime lezioni incomincieremo a lavorare oggi proprio andremo a costruire quello che vuole dire che la giacca sarà trapuntata avrà i fiori colorati vi farò vedere abbiamo un colo intero compreso c'è il dritto la manica intera kimono abbastanza voluminosa che non andremo a tagliare come una manica normale ma andrà in questa direzione verso il basso nel modo che io preferisco tanti diranno che è scomodo alzare la mano in questo modo magari mentre si è ad esempio sui trasporti pubblici quando alzate il braccio per tenervi magari potrà sembrare scomodo a questo si può rimediare aprendo la giacca semplicemente sbotonandola oppure aggiungendo un tasselo proprio qui sotto ma avete già visto in precedenza come fare con il capotto verde a proposito di questo modello vi dico che non dovrà per forza essere uguale al mio voi potete aggiungere i polsini qualcuno realizzare con il colletto all'inglese qualcuno lo farà con la cerniera che arriverà a chiudersi fino alla fine in alto io ho deciso che farò con i bottoni automatici abbiamo segnato due piccoli punti per un totale di cinque che sarà la mia chiusura dove andremo a inserire internamente i bottoni automatici per la parte superiore andrò a utilizzare questo tessuto in organza con queste belle folie grandi perché ho scelto questo tessuto ho scelto questo tessuto perché una gona di colore blu brillante e andrò ad abbinarlo perché sono stanca di utilizzare sempre semplici tessuti di colori tereo questa cosa questa volta vorrei qualcosa di più luminoso questa è un'arganza che realizzerò per la mia giacca con le folie blu argento rosato e sarà molto elegante naturalmente lo farò in modo che la manica si possa risvoltare in questo modo basterà prendere fino a qui 36 centimetri in modo da riuscire a fare il risvolto ampio e all'interno utilizzerò un tessuto chiaro ovviamente non vi chiedo di utilizzare come me questo tessuto e nel mio caso questa giacca andrà abbinata molto bene la mia gona ma potete farlo anche in organza semplice non imbottita potete farla in tanti tanti altri tessuti come appunto detto si può utilizzare vari tessuti a vostra scelta per esempio quello che si usa per fare il trench un cotone impermeabile oppure il tessuto tweed tipo chanel oppure un fresco di lana eccetera eccetera insomma crepe quello che volete per l'imbottitura si può utilizzare anche la fodera sintetica leggermente imbottita oppure semplicemente farla come una giacca senza imbottirla visto che arriva il caldo chi vorrà potrà farla corta fino ai fianchi come il mio caso oppure fino a tre quarti fino alle ginocchia aggiungere una cintura in vita e sembrare un spolverino chi lo farà a metà che lo farà con lo spacco laterale insomma chi vorrà potrà aggiungere dei tasconi grandi chi potrà fare una manica larga come la mia o potete poter aggiungere un polsino con elastico qualcuno lo farà con il colo doppio oppure con quello lavorato a male insomma avete capito che ci sono tantissime varianti per fare questa giacca io ho scelto una ma voi potete variare e farla sia per la parte invernale che quella estiva se imparerete a fare questo tipo di giacca riuscirete a fare molte altre cose perché imparerete a lavorare con due parti il davanti e il dietro cucendo il tutto in modo circolare aggiungendo la fodera anche perché ora non ce l'ho ma vorrei aggiungere la fodera con un colore da abbinare al tessuto che può essere un rosa chiaro un azzurro in modo che sulla manica e sul colo sarà un colore in tinta unita io farò in modo che nel davanti ci sia più azzurro così quando andrò a indossare la mia bellissima gona azzurra con questa giacca potrò andare al lavoro con qualsiasi tipo di capo perché sono stanca dei colori tenue e monotone e ora basta parlare concentriamo sul nostro lavoro qui abbiamo il tessuto quello in quale in quale andrò a lavorare ora parliamo delle misure che dobbiamo prendere cominciamo dalle circonferenze ci serviranno la circonferenza del seno e dei fianchi il punto vita non serve lo lasceremo un po libero perché con questo tipo di tessuto sarà un po difficile dare un effetto sfiancato nel caso potrete utilizzare una cintura con lo stesso tessuto una cintura qualsiasi abbinata inoltre con il tessuto che avanzate potete fare una sciarpa voluminosa in modo da avvolgere intorno al colo e fissarla qui o un fiore come abbiamo imparato nel club insomma tante tante cose così sarà anche più bello in tante riviste francese di moda abbiamo visto utilizzare spesso queste sciarpe voluminose larghe così dai vari disegni come quadrati eccetera eccetera vanno a volte legate in modo che l'estremità scendono in modo voluminoso creando ancora una volta un look diverso a noi ci servirà la circonferenza del seno nella circonferenza dei fianchi la circonferenza vita in questo caso non serve e servirà servirà la larghezza spalle quindi ricapitolando sulle misure ci servirà la circonferenza del seno la circonferenza dei fianchi non serve la circonferenza vita e serve la larghezza spalle per misurare la larghezza delle spalle prendiamo il metro salto reale appoggiamolo sulla parte superiore delle spalle più o meno dall'attaccatura delle maniche e di solito io ho 41 centimetri qui appoggiati in questo modo il metro cercando di rimanere un po abbondanti piuttosto che troppo corti in modo che la cucitura non si sposti o da lì non andremo a prendere la lunghezza della nostra manica ora noi servirà la lunghezza della manica la circonferenza sull'orlo e la lunghezza della giacca partendo di solito dalla settima vertebra cervicale fino al fondo la mia misura è di 67 centimetri quindi abbiamo detto larghezza e lunghezza della schiena la lunghezza e larghezza della parte sotto della manica e lunghezza della schiena 67 centimetri queste sono le mie misure necessarie ora ho messo da parte il tessuto con il disegno e adesso cominciamo a costruire il modello non vedo l'ora di vedere il risultato come sempre incominciamo dalla settima vertebra cervicale disegniamo la linea della lunghezza della nostra schiena scendiamo la verticale della lunghezza del capo come abbiamo il punto della settima vertebra cervicale che chiamerò a strato numero 0 la lunghezza della schiena questa è la linea della vita numero 40 centimetri nel mio capo 41 ho bisogno di arrivare a 67 in tutto ma voi lo farete in base alla vostra misura in il punto lunghezza 66 che lo chiamerò punto n questa è la lunghezza della lunghezza del mio capo e abbiamo ottenuto il centro dietro ora dividiamo 41 a metà qui scriviamo n 20 e mezzo e questo sarà semplicemente la nostra linea lavorativa del seno dal punto 0 fino al punto vita diviso a metà e qui avremo la lunghezza totale della schiena e questo è tutto quello che servirà ora da tutti questi punti tracciamo delle linee perpendicolare la linea centro dietro mi sono dimenticata di dirvi che sul dietro avremo la cucitura sul centro dietro fino in fondo alla giacca non ci saranno risvolti si pegherà si andrà a fare con la paramontura di un altro tessuto e qui da 41 cm andiamo a dividere 17 cioè andiamo a scendere di 17 alla linea di fianchi nel mio caso ora sulla linea seno sulla linea fianchi mettiamo i volumi delle nostre circonferenze circonferenze circonferenza seno di ciò 118 la metà 59 un quarto circa 30 cm la circonferenza dei fianchi 114 metà 57 a un'altra volta metà sarà circa 29 quindi da qui per il seno 30 cm per la linea fianchi 29 queste sono le mie misure visto che userò l'organza in questi punti andrò ad aggiungere altri due centimetri due due perché comunque sarà anche imbottita guardate questo è il centro dietro mentre qui il centro della vita qui in questi punti ho aggiunto due centimetri perché il tessuto risulta molto rigido e andremo insomma ad aggiungere volume andremo ad aggiungere una linea della cucitura laterale partendo dai fianchi andremo a disegnare una linea leggermente amorognosa ma non di molto circa un centimetro e mezzo non di più andiamo a scavare praticamente nella linea vita non andiamo a scavare troppo guardate come è venuta la nostra linea e nel centro dietro disegniamo un'altra linea sempre leggermente scavata nella linea vita quando andremo ad evidenziare con le linee colorate vi sarà tutto più chiaro andiamo a disegnare il punto inizio spalla partendo dal 0 8 centimetri e 3 centimetri verso l'alto adesso andiamo a disegnare la linea dal centro del dietro che misura 41 centimetri la larghezza spalla dobbiamo mettere la larghezza spalle 41 diviso 20 diviso 2 fa 25 e mettiamo dal centro dietro verso sinistra guardate questa è la linea della larghezza spalle e ora dobbiamo andare a disegnare la linea della spalla io vorrei cominciare da questo punto di 7 8 millimetri da qui e qui vado a disegnare la linea leggermente obliqua vedete gli do l'inclinazione di 7 8 millimetri non di più una inclinazione di più o di meno non serve inizio spalla qui sono 7 8 millimetri di larghezza e adesso andremo a posizionare il nostro reghielo sul punto della cucitura della linea vita vedete questa distanza questa linea la dividiamo per 3 anzi mettete dalla linea seno in giù 10 centimetri già sappiamo dove iniziata la linea della manica che vado a estendersi fino al fondo e che parte da dove inizia il punto inizio spalla di 3 centimetri con leggera pendenza di 8 millimetri da qui e qui abbiamo disegnato la linea fino in fondo la lunghezza dall'inizio della spalla è quasi di 60 centimetri andiamo avanti da questo punto della manica mettendo la squadra disegniamo una linea di 10 centimetri e c'è un angolo 90 gradi assolutamente scendiamo una linea di 10 centimetri sull'orlo anche se per voi in base alle vostre misure sarà diversa la mia sarà di 10 e ora uniamo questi due punti ora l'inizio spalla uniamo con quei 10 centimetri in fondo quando useremo i penarelli colorati sarà tutto più chiaro e adesso dal punto 10 utilizzando sempre la squadra a 90 gradi andremo a misurare la larghezza della manica che nel mio caso è di 18 centimetri anche se vi sembrerà un po troppo largo non preoccupatevi perché faremo sempre in tempo a stringerla da qui a qui ecco la nostra manica ricordatevi che da questo punto a questo abbiamo misurato 10 e dal punto 10 partiamo a disegnare una linea curva e per questo andremo a usare ancora la squadra e da questo punto andremo a fare sempre angolo 90 gradi e da questo punto andremo a disegnare la linea curva un po più ampia forse diminuisco di un centimetro perché mi sembra un po troppo largo la larghezza in fondo faccio 17 e non 18 qui potete modificare a vostro piacere fare più largo più lungo andrà comunque sempre bene potete lasciare ampio stretto ogni variante andrà comunque bene questo punto dovete disegnare in modo armonioso ora andiamo a fare le ultime operazioni per andare poi a evidenziare tutte le linee con i colori qui disegnate quanto più vi piace dal punto di inizio spalla anzi dal punto 3 eccolo qui quello che abbiamo alzato lo scolo cominciamo a disegnare la linea come questa aggiungendo una piccola curva in modo da unire le linee vedete questo è il punto 3 e un centimetro prima del punto 3 alziamo una perpendicolare in su e arrotondiamo sono riuscita ad ottenere 7 cm su questa linea però vedo che il colo non è troppo alto quindi andremo ad aumentare ancora e invece di 3 cm ne aggiungeremo un altro e arriveremo a 4 cm da questo punto andremo a disegnare il colo alto curvando leggermente la linea vedete qui di un centimetro arrotondiamo ho finito di disegnare il dietro adesso posso iniziare a evidenziare con i colori spero che abbiate capito tutto bene così andremo a utilizzare in questi giorni semplici metodi per tutti i capi nel parte del centro dietro abbiamo una cucitura dall'alto al basso la giacca è composto da quattro parti qui abbiamo la linea dritta nel nostro colo alto non pensate che il colo rimarrà fermo e dritto vedrete come verrà fuori io lo adoro da questo punto andiamo a controllare la lunghezza della manica io ho esattamente 60 cm dipende tutto dal tessuto ma io cercherò di adattarlo nel migliore dei modi io farò tutto un po' voluminoso ed è per questo che ho preso l'imbottitura sintetica perché ora va di moda questo stile oversize viene in questo caso è molto facile chiudere come nuine lonti il vLED 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 la gona che andrò ad abbinare sarà aderente quindi per la parte superiore ci sta bene un capo ampio e voluminoso sicuramente starò molto bene questa è la linea della vita qui sotto quella del fondo mentre qui ho già evidenziato la linea del centro dietro del collo e la manica con una leggera inclinazione io credo che chi guarderà il nostro la nostra lezione riuscirà a realizzare il cartamodello simile a questo chi non vuole utilizzare il collo simile a questo qui c'è la spalla qui c'è il collo vi basterà toller 12 centimetri qui sulla spalla per avere un collo classico tradizionale adesso comincia a tagliare e so già che amerò la mia futura giacca parlando con le mie amiche me lamento sempre che ho troppi vestiti lineari su misura quello che mi consigliano di portare ma io non sono amante di questi generi di vestiti e non so come mai ho l'armadio pieno di queste cose ora guardate questa linea il centro della schiena e la larghezza questa è la misura della spalla che abbiamo già preso prima e questo l'inizio della manica ricordiamo sui fianchi ho aggiunto due centimetri quindi quattro centimetri da un lato e quattro dall'altro in poche parole questo è un po di vestibilità per questo avremo dei fianchi comodi imparate a tracciare questa linea da qui avrete ricavato l'angolo e da qui a troverete il punto di cui iniziare la manica e disegnerete è importante tracciare bene questa parte sotto fate un po di pratica se proprio non ce la fate ora ho poggiato la schiena su un'altra carta millimetrata e ho semplicemente ritracciato il suo perimetro qui ho il centro della schiena del dietro e parto a disegnare la linea dritta senza seguire le curve e così che ottengo la linea centrale del dietro la linea centrale del davanti ora tolgo il cartamodello del dietro definisco meglio le linee vi ricordo che qui non ci sono cose complicate tutto molto semplice molto ampio e il colo molto alto è un unico pezzo e intero linea vita qui non abbiamo nessun bilancio come fare un camicione una tunica se vi ricordate abbiamo già fatto mi pare un abito in jersey ne abbiamo fatto vedere questo tipo di coletto non abbiamo nessun niente di diverso le tuniche ad esempio si possono cucire sempre da questo cartamodello questa è la parte del davanti semplicemente con la modifica che davanti alla linea dritta ora aggiungo 2,5 centimetri dal centro davanti per l'abbottonatura bene abbottonatura aggiunta qui abbiamo più o meno la base del colo circa a livello della settima vertebra cervicale anche se davanti il colo sarà un po più basso quindi a questa altezza consideriamo 4 centimetri più in basso e da questo punto andiamo a tracciare alziamo la linea della bottonatura e ci uniamo qui con l'inclinazione qui andrò a togliere circa 2 centimetri ora a parte prenderemo la matita di un altro colore io ho il marrone con la quale andrò a evidenziare tutte le modifiche che abbiamo fatto sul davanti io farò in modo che il colo non risulti attaccato e qui su questo punto andremo a mettere un bottone quindi avremo un colo molto alto ma questo perché mi piace molto a me quindi ho scelto di fare così e se vedo che indossando il capo mi arriva fino a qui io andrò ad accorciarlo in questo modo andrò a togliere circa 2-3 centimetri è molto alto questo coletto mi raccomando alla prova decideremo quanto alto lo voglio vedete dopo possiamo togliere vedete anzi lo tolgo già un pochino ho tolto praticamente sui 3 2 e 5 3 massimo insomma qui dipende se questa parte del colo non raggiunge la linea del centro dalla parte anteriore anche questa parte del colo non la raggiungerà e qua risulterà un piccolo spacco e poi se risulterà troppo alto e non vogliamo e vogliamo abbassarlo andremo semplicemente a togliere un po' di più cioè tutto dipende di quello che vogliamo lo vedremo alla prova adesso abbiamo pronto anche il davanti ora ritallero tutto e poi vedrete il risultato la cucitura della spalla seguo il colo intero qui non sarà tutto perfetto ma a me va bene così vi ricordo che la nostra giacca è composta da quattro parti due parti per il dietro e due parti per il davanti ci sono tantissime varianti qui che possiamo fare quello che deciderete di fare andrà bene con questo metodo potete fare giacche lunghe corte di mezza lunghezza fino al ginocchio con le cinture con le culisse con la clip con le tasche saldate con le cerniere con i bottoni eccetera eccetera con questo modello si possono fare tantissime cose oggi abbiamo capito come costruire con il cartamodello questo dietro meraviglioso che è diverso dalla parte del davanti perché in quella parte davanti siamo andati ad aggiungere questo pezzo e abbiamo tolto qualcosa qui al centro io penso che otterremo una giacca molto bella ma non vorrei un colo enorme qualcuno potrebbe fare un colo cucito in questo modo anche se non entrerà perfettamente nelle spalle ma inizierà un po più distante con un ampio doppio colo che separerà in questo modo così da creare qualcosa di esclusivo utilizzando questo modello penso che nel prossimo video andrò a cucire il tutto e sarò molto felice di provare la giacca quindi lo vedrete mettete like e condividete i nostri video sui social iscrivetevi al nostro canale acquistate i nostri corsi in modo da supportarci e fateci le vostre domande vi auguro una buona fortuna un saluto da Pauscherina Michailuna e tutto il nostro team ricordatevi rimanete insieme a noi e commentate perché per noi è importante capire la vostra grazie a tutti